Una cerimonia anche nella sua Catania per rendere onore al prestigioso conferimento avvenuto nei giorni scorsi in Svizzera del titolo di magnifico rettore dell'Università Telematica Unisa Raffaele al professor Corrado Labisi, già pro-rettore e docente di diritto internazionale della stessa università. Io ringrazio l'università, ringrazio il senato accademico, ringrazio i presidi di facoltà, ringrazio i docenti ma soprattutto ringrazio il Dipartimento della Direzione Generale, qui ho accanto il Direttore Generale anche lui siciliano, siamo i due siciliani che siamo al vertice di questa prestigiosissima università telematica con sede fisica a Zug, sede anche a Zurigo, a Ginevra e a Bruxelles. Ecco, io ho voluto fortemente, sono stato accontentato che il passaggio del testimone mi venisse rilasciato in pratica qui in Sicilia. Perché tutto questo? Perché da buon sicano, siculo e siciliano che io sono, voglio far capire al resto del mondo che la Sicilia non è solamente mafia e degrado, è pur vero, stiamo vivendo un momento di apocalisse a livello generale e soprattutto qui in Sicilia di politica che non funziona. E allora ecco, questa sera noi abbiamo grossi personaggi che ci stanno onorando ad essere presenti, ex magnifici rettori, docenti universitari, uomini delle forze dell'ordine pubblico, della magistratura. Io li ringrazio. Pertanto ecco, vogliamo che questa sera da qui, dall'ombelico del mondo, perché noi siamo l'ombelico del mondo, quattro continenti debbono passare gioco forza dalla Sicilia per attraversare l'Africa e siamo, e non dobbiamo dimenticarle, mare nostrum, e dobbiamo riprendere quello che Dio ci ha dato. Ahimè, nel 1860 c'è stato un colpo di Stato a tutti gli effetti. Da allora tutto il meridione non si è più risollevato. Vogliamo che dalla Sicilia possa partire un nuovo messaggio, cioè un mondo migliore, un mondo diverso, soprattutto per i giovani, perché qualcuno vuole togliergli una grande cosa che è la speranza. Momenti di commozione per il neoretore durante il passaggio del testimone, quando il direttore generale, professor Angelo Maugeri, gli ha consegnato la palma d'argento e il medaglione raffigurante l'uomo vitruviano, simbolo dell'Unisa Raffaele. L'università telematica Unisa Raffaele è un'università che è all'avanguardia, un'università moderna, proprio perché si ispira alla didattica telematica in videoconferenza, con le piattaforme learning di ultima generazione. Quindi noi non abbiamo, è un'università che non ha confini, poiché praticamente è un'università che abbatte le distanze, proprio perché si ha la possibilità di poter studiare telematicamente in qualsiasi parte del mondo si trovi. Noi, appunto, mediante un combando interno che è stato pubblicato, il professore avvocato Carado Labisi è stato candidato insieme ad altri docenti, professori della nostra università, ed è stato appunto eletto perché ha dimostrato capacità indiscusse e si è distinto proprio nello sviluppare appunto tutta la programmazione didattica di livello, anche perché ha ricoperto appunto il ruolo come prorettore. Quindi, insomma, aveva già una sua esperienza dietro le sue spalle. Quindi, niente, noi abbiamo voluto accontentare, con grande soddisfazione e con grande onore, il nostro nuovo magnifico rettore conferendo appunto la palma d'argento, che sarebbe il testimonia dell'Università Telematica Unisa Raffaele, proprio qui in Sicilia, a Catania. Quindi, ecco, che per la parte nostra è stato accontentato con immenso piacere perché merita questo ed altro. L'evento è stato anche occasione per firmare due protocolli di collaborazione con prestigiose realtà, quali l'Associazione Nazionale Sociologi e l'Università Petro Andrei di Isai, in Romania. L'Unisa Raffaele ha poi voluto consegnare ad alcuni personaggi distintisi nel campo della cultura accademica e non solo una targa di riconoscimento. Al professor Antonio Recca, ex magnifico rettore dell'Università degli Studi di Catania, già preside della Facoltà di Ingegneria di Catania, oggi docente della stessa facoltà, premiato per l'attività accademica. Al professor Roberto Lagalla, già rettore dell'Università di Palermo, attualmente docente universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo e vicepresidente della CNR, premiato per l'attività accademica. Premiato per l'attività accademica, anche il professor Massimo Buscema, presidente dell'Ordine dei Medici di Catania e docente di endocrinologia all'Università degli Studi di Catania. Alla professoressa Vilma Barcellini, terza al mondo nella cura e la ricerca delle anemie ematologiche autoimmuni. E ancora la professor Giuseppe Ferincelli, preside della Facoltà di Sociologia all'Università Unisa Raffaele, premiato per l'attività accademica. Al dottor Pietro Zocconali, presidente nazionale dell'Associazione Ordine Nazionale Sociologi di Roma, premiato per l'attività nel campo degli studi sociologici. Al professor Attilio Cavallaro, presidente del Comitato Spontaneo e Antimafia, Livatino Saetta Costa, premiato per la cultura e la legalità. Al magnifico rettore, professor Doru Tompea dell'Università Petro Andrei di Asci, Romania, premiato per essersi distinto nel mondo didattico-culturale, a ritirare la targa la delegata Ionella Benedict. Infine, consegnata una targa di riconoscimento anche a Monsignor Roberto Deodorico, segretario generale dell'Università Pontificia alla Teranense e docente presso la Facoltà di Filosofia delle Relazioni dell'Università Unisa Raffaele, premiato per l'attività accademica. Sono molto felice per lui, per il riconoscimento che riceverò anche io, ma soprattutto per l'incarico per cui mi ha proposto, quello di docente della Facoltà di Sociologia. Come tema ho scelto Filosofia delle Relazioni, perché ritengo che tutta la nostra vita si gioca nelle redazioni, quelle orizzontali ma anche quella verticale. Una cosa che mi dà molta soddisfazione è questa rettoria del Collegium Lateranense, dove ci sono una cinquantina di sacerdoti da tutto il mondo, chiaramente i meglio preparati delle loro diocesi, e la formazione di persone del genere serve molto a creare l'unità di uno stesso spirito all'interno della Chiesa. Ci si forma più vivendo insieme, imparando la stessa lingua, che non leggendo gli stessi documenti.